Musica Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli Radio Surgery Center di Agropoli Come sempre saluto tutti i nostri telespettatori a cui do il benvenuto al primo appuntamento con l'informazione di TV Molise Quest'oggi partiamo da Isernia perché ci sono state le prove generali di mobilità sostenibile appunto alla stazione Arriva infatti il primo treno elettrico anche se però si tratta solo di un primo viaggio di collaudo Ce ne parla Carla Marino Era solo un viaggio di prova Eppure l'emozione di vedere il primo treno elettrico transitare nella stazione di Isernia Sarà di certo un ricordo da custodire nella memoria di chi si è trovato ad assistervi Il 18 gennaio 2024 resterà una data storica per la mobilità sostenibile e l'avanzamento tecnologico della rete ferroviaria locale Alle 10.55 un convoglio a trazione elettrica ha solcato i binari pentri composto da sette vetture È partito da Roccaravindola e ha effettuato diverse corse prima di darsi il cambio Sempre per un tragitto di prova con un minuetto ME 075 A comunicare la notizia è stata l'associazione Le Rotaie Ma sul web sono stati numerosi video pubblicati a immortalare un atteso traguardo Una prova generale per la partenza ufficiale in arrivo entro poche settimane Con i due treni elettrici in dotazione delle linee dirette a Roma e Napoli I due convogli saranno forniti per il prossimo anno e mezzo dalla regione Campania Come annunciato dal vicepresidente della giunta regionale Andrea Di Lucente Dal 2025 invece la regione Molise acquisterà quattro treni a trazione elettrica del modello POP 2.0 Il parco vetture sarà incrementato di altre quattro unità nel 2027 Fino a raggiungere i dieci convogli a disposizione Nel frattempo è il caso di dirlo buona la prima anche se solo come collaudo E vediamo ora quali sono le notizie delle ultime ore Diamo uno sguardo ai nostri giornali, partiamo prima però dai quotidiani online Apriamo la pagina di TV Molise che apre con questa notizia Del ritrovamento del 93enne disperso salvato dai vigili del fuoco Poco dopo le 17 di ieri appunto quest'uomo con la sua auto ha sbagliato strada Trovandosi bloccato in una strada di campagna non asfaltata in una zona impervia Con un contatto telefonico allertato il 112 E poco dopo è stato raggiunto anche appunto dai vigili del fuoco che lo hanno tratto in salvo E poi la questione dell'arbitro aggredito Siamo a Esernia, il processo va avanti Accuse fondate dunque quelle rivolte dall'arbitro Gianmarco Meo Minacciato e colpito con un pugno in pieno volto nel giugno del 2022 Durante una partita di calcio da lui diretta in territorio molisano E poi ancora diabetologia senza diabetologo Siamo a Venafro dove l'ambulatorio appunto di diabetologia del Santissimo Rosario È da mesi senza il medico specialista Quindi inutile precisare quali siano i gravi disagi per i pazienti Spostiamoci sul quotidiano del Molise che apre invece sull'imminente visita del ministro dell'interno Piantedosi Infatti il 22 gennaio sarà qui in regione Presenzierà al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura Campobasso Poi parteciperà alle premiazioni del concorso Il Valore e del Rispetto In programma al Mario Pagano Sempre sul quotidiano del Molise Spostamenti di settore e cambi di contratto La SEA replica Procedure legittime La società che si occupa per conto del Comune di Campobasso Della gestione dei rifiuti Riportati, dice fatti Che non corrispondono alla realtà E poi aiuti al Molise Pallante Il governo deve fare di più Deluso da Cesa e Lotito Il presidente del Consiglio regionale Ha annunciato anche che il capo dello Stato Non sarà in regione per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della fondazione Passiamo ora su Molise oggi Ordine dei medici A Isernia non serve un nuovo ospedale Fernando Crudele quindi va dritto al punto E dice Nelle attuali condizioni del sistema sanitario regionale Un nuovo ospedale a Isernia non serve a niente Lo andremo ad aggiungere a due scatoloni già svuotati di medici e servizi Il Veneziale e il Santissimo Rosario In sostanza Afferma il presidente dell'ordine dei medici di Isernia Se ci sono soldi da spendere Spendiamoli per incentivare i sanitari a venire in Molise Andiamo ora sulla nostra pagina Facebook Dove ancora si parla appunto dei treni Prove generali alla stazione di Isernia Arriva il primo treno elettrico Lo avete visto nel servizio E poi anche il ritrovamento come dicevamo poc'anzi Del 93enne disperso Salvato dai vigili del fuoco Molise Network Trasporto pubblico Fringe benefit ai dipendenti Firmato accordo tra Will, Trasporti e ATM E poi ancora Fondo per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione Mobilitazione DPD e associazioni Per la cronaca c'è ancora il racconto dell'uomo che si è disperso nelle campagne E poi l'arrivo del primo treno elettrico E poi ancora al di là delle più rose previsioni L'open day all'istituto Alfano di Termoli Si replica sabato 20 gennaio Lasciamo gli online Ci spostiamo invece sui cartacei Siamo sulla prima pagina di Nuovo Molise Il presidente Mattarella Questo è il titolo a centro pagina Il Molise non si snobba La rinuncia del capo dello Stato alla festa dei nostri primi 60 anni Se il forfè riferito da Pallante è vero Si tratterebbe di un riprovevole sgarbo Alla più giovane regione d'Italia Che chiede e merita rispetto In alto ancora il treno elettrico Arriva un treno carico di risate Il paradosso dei trasporti in Molise Mentre a Isernia arriva il primo convoglio elettrico Va fuori binario la stazione di Larino I sindacati contro la regione E poi si parla anche della strage Della tragedia di Rigopiano Che non si dimentica Pure Meloni e Salvini chiedono che venga fatta giustizia Sulla strage abruzzese Ancora non serve un nuovo ospedale Ma più cure il progetto del nosocomio di Isernia La denuncia di crudele Dell'ordine dei medici I cittadini di Isernia non chiedono strutture faraoniche Ma il rispetto di un diritto garantito dalla Costituzione Cioè quello alla salute Perciò il progetto di un nuovo ospedale Appare anacronistico Non usa mezzi termini Il presidente dell'ordine dei medici Fernando Crudele Poi il caso l'otto zero Fermate i lavori La diffida al comune di Isernia Da parte di Mainelli Infine a Larino arriva Turrisi L'alchimista della musica Il concerto del grande polistrumentista italiano E ultimo vincitore di una Grammy Award Fa ritorno appunto in Italia per un tour In piano che prevede solo tre tappe Che sono Napoli, Roma e Larino In Molise The Irish Times lo definisce l'alchimista della musica Passiamo ora invece su primo piano Molise Sanità si punta al miracolo Pareggio dei conti nel 2024 La sorpresa nel bilancio di previsione Adottato con decreto dalla struttura commissariale Valorizzata la mobilità attiva La regione stima di incassare oltre 43 milioni Dalle cure erogate a pazienti non molisani E poi ancora la questione del nuovo ospedale di Isernia A priorità da 100 milioni di euro Ma il presidente Crudele Tuona Va potenziata la medicina sul territorio Le altre notizie in prima pagina Campobasso, sicurezza e lotta ai femminicidi Arriva il ministro Piantedosi E poi Ferrovie 2.0 Da Roccaravindola Isernia il primo treno elettrico Ma è solo una prova A Isernia il 2024 sarà l'anno dei lavori pubblici 40 cantieri per cambiare volto alla città E poi andiamo a Colletorto Bagno di folla nel borgo degli Angioini Per i falò di Sant'Antonio Onore ai fuochi Daniel Paradiso Il re del gelato in Argentina Ma andiamo all'interno di primo piano Scusate Andiamo a vedere appunto la prima pagina interna La pagina politica La missione impossibile della sanità Pareggio nel 2024 Nel bilancio consolidato di previsione A cura del DG Gallo Adottato con decreto del commissario Bonamico Valorizzato il dato della mobilità attiva Ossia oltre 43 milioni E poi il 118 L'ennesimo SOS delle associazioni all'azienda Così non ce la facciamo Costi personale Le note dolenti Le nostre istanze cadute nel vuoto Si parla poi di disturbi dell'alimentazione Il PD in calza La regione sostenga le famiglie coinvolte Poi ancora Contributo welfare ai dipendenti Siglato infatti un accordo Fra ATM e Will Trasport E' stato firmato questo accordo ieri mattina Per l'applicazione appunto dei fringe benefit Fra l'azienda e la Will Trasport In particolare a tutti i dipendenti Con contratto a tempo indeterminato Sarà riconosciuto un contributo welfare Tra i 100 e i 300 euro Andiamo sulla pagina successiva Bonifica Per uno spora Confronto in via Genova Cia e col diretti al tavolo Convocato dall'assessore Micone Allo studio altre misure per il vitivinicolo E un piano di risanamento per il consorzio Basso Molise E poi sicurezza e lotta ai femminicidi Piante dosi lunedì a Campobasso Alle 10 e 30 ha fatto sapere ieri sera La prefettura del capoluoco Il titolare del viminale Presenzerà al comitato provinciale Per l'ordine della sicurezza pubblica Convocato dal profetto Michela Lattarulo A seguire alle 11 e 45 Terrà un punto stampa Andiamo ora sulla pagina di Campobasso La gestione innovativa delle progressioni di carriera in SEA Esposito e con la Giovanni Attaccano l'amministrazione grillina E annunciano una integrazione sul caso in consiglio comunale Arriva alla replica di Tomaro Nulla di improvviso arbitrario Procedura trasparente E poi prevenzione Informazione sulla violenza di genere Focus alla caserma Frate Nell'incontro si è tenuto ieri mattina Nell'aula magna Della scuola lievi carabinieri di Campobasso Nel corso dell'incontro Moderato dalla giornalista Rita Carla Codispoti Gli interventi dei principali soggetti Che operano nell'ambito del contrasto Appunto alla violenza sulle donne Andiamo avanti Ci spostiamo sulla pagina di Sernia Lo dicevamo Giornata storica per il trasporto su ferro Arriva il primo treno elettrico Il convoglio partito per una corsa di prova da Roccarabindola Era composto da sette vetture MDVE E due locomotori E464.186 Direzione passeggeri regionale E poi nuovo ospedale nel piano degli investimenti della GSA Una priorità da 100 milioni I fondi dedicati esclusivamente alla realizzazione del presidio Previsto anche un contributo regionale Le altre strutture con risorse del PNRR E poi crudele I cittadini che chiedono il rispetto del diritto alla salute Il presidente dell'OMCEO Esernia Tuona in una lettera aperta Andiamo avanti Siamo ora a Venafro Fondo non autosufficienza Abbattuti i tempi della burocrazia Tommasone ringrazia l'assessore Cefaratti Ora le stanze si possono presentare anche presso l'ATS Quindi il presidente dell'ambito territoriale Di Venafro Angela Maria Tommasone Allarga lo sguardo E spera che con le ultime riforme legislative Si arrivi ad avere più risorse a disposizione Per ottenere più finanziamenti Occorre stare attenti a cosa accadrà Nei prossimi giorni E poi all'Istituto Giordano Il futuro è già presente La sede di via Magliella Spalanca le porte Per illustrare l'offerta formativa Domani l'open day Con tanta didattica innovativa Andiamo infine sulla pagina di Termoli Il granchio blu Entra nelle specie ittiche commerciali Il ministro Lollo Brigida Ha colmato il vuoto legislativo Più facile per il consumatore Trovare il crostaceo nei mercati E poi altro argomento Fium CGL non fa sconti a Stellantis Si in arrivo a Stemblè nelle fabbriche Uniamoci per contrattare E riprenderci la dignità Ancora Sib e Fiba Soddisfatti dalla mossa del governo Meloni E poi lo abbiamo detto prima Open day all'Alfano Per bissare il successo di sabato Bene per le notizie regionali è tutto Ci spostiamo ora sulle prime dei quotidiani nazionali Il Corriere della Sera Sera apre sul verdetto della Cassazione Riguardante il saluto romano Che non è reato Oppure è reato se c'è solo pericolo fascista Quindi è lecito questo saluto romano Nelle commemorazioni secondo la Cassazione Poi si parla delle regionali Accordo tra alleati sulla Sardegna Quindi no a Solinas La Lega sosterrà Truzzo Di Fratelli d'Italia E poi c'è il duello sul Messi Leader Movimento 5 Stelle Alla Camera Conte al giurì Voglio giustizia Oggi la Premier Voglio giustizia per le dichiarazioni false E menzognare Che mi sono state rivolte Meloni ha ribaltato la realtà Dice Conte Durata un'ora e mezza L'audizione appunto di Conte Al giurì d'onore della Camera Che dovrà giudicare la fondatezza Delle accuse rivolte da Giorgia Meloni Nei confronti di Conte In merito alla firma dell'accordo sul Messa Ai tempi in cui lui sedeva ancora a Palazzo Chigi Oggi appunto Toccherà alla Premier E poi gli ecoattivisti Il processo Tre condannati a sei mesi Blitz per motivi morali Scatta l'attenuante Qui vedete questa fotonotizia Siamo ancora in Medio Oriente Bombe e morti Così il Pakistan risponde all'Iran Nove le vittime Intanto c'è la lite tra Stati Uniti e Netanyahu Bene Lasciamo il Corriere Ci spostiamo sulla Repubblica Che apre invece sulle candidature alle regionali Meloni piega Salvini La Premier vince il braccio di ferro E la Lega quindi rinuncia alla Sardegna Ma è scontro nel centro-destra Sulle altre regioni Polemica sulla decisione della Cassazione Sul saluto romano Lecito, lo dicevamo, nelle commemorazioni Casa Pound Vittoria storica Pinelli CSM Troppo politico Ha deragliato Quindi l'irritazione Del colle E poi Bill Gates Sarà a Roma Sulia e Gelo Con Palazzo Chigi E poi la strategia di Mosca Lavrov accusa l'Italia e l'Occidente Tornano i fascisti Andiamo ora su Il Fatto Quotidiano Invece dei corrotti Il governo vuole intercettare i giornalisti Mentre Nordio spara zero Sugli ascolti antimafia e antitangenti Sicurezza nazionale Roma e Parigi chiedono di infilare Nel regolamento UE Sulla libertà di stampa La possibilità di spiare senza limiti I cronisti E le fonti con Spower Da zero Zero Sette Poi ancora E gli ecoattivisti Linea dura del governo Tre I ragazzi condannati E poi il Pakistan Che bombarda l'Iran BB Iguaia Joe Biden Ho detto agli Stati Uniti Stato palestinese Mai in alto In alcuni casi Il saluto fascista Non è un reato La Cassazione quindi annulla Otto condanne Poi Solinas L'ombra dei massoni Ora Salvini lo scarica Però vuole la Basilicata Andiamo ora invece sul sole 24 ore Che apre invece sugli scenari Eco e omnomici La Francia Fallimenti in forte crescita L'ultimo trimestre 2023 Tra i peggiori Degli ultimi 30 anni Previsioni poco rose Pesa la fine degli aiuti Legati alla pandemia Interessate le imprese Più giovani E poi le blue chip italiane Fanno ricchi soci Più di quelle europee Poi a centropagina Le banche Rischio caos Su Basilea Mancano 132 norme Dell'Elba Qui questa fotonotizia Medici senza frontiere Famiglie distrutte Mancano gli antidolorifici Audio drammatici Da Can Yunis E poi ancora Air India Compriamo un aereo Ogni sei giorni Quindi boom Indiano dei voli Parla Campbell Wilson E poi la corsa del paese Nuova Delhi La banca centrale Che stima una crescita del PIL Al 7% Inflazione al 4,5% Andiamo su il mattino Di Napoli Asse Salvini De Luca Per il terzo mandato Incontro a Benevento Ma è gelo Sua autonomia Sanità E fondi europei Per quanto riguarda Le regionali L'accordo nel centro-destra Per la Sardegna E poi rimane Il nodo Basilicata Poi c'è la cronaca Che riguarda Impagnatiello Sono stato disumano Con Giulia E il bimbo I familiari Mentre lui parlava Via dall'aula Impagnatello E lacrime Si scusa appunto Davanti al giudice La rabbia di Chiara Tramontano Che dice Incella Per sempre Poi a centro-pagina C'è invece il calcio Il vero Napoli Di Mazzarri Supercoppa Viola battuta 3 a 0 Lunedì finale Con Intero Lazio Zerbin Da rabbia Lasciamo Anche il mattino Andiamo a vedere Qual è l'apertura Invece della stampa Di Torino Che apre Ancora sul saluto romano Saluto romano Che non è reato E esulta Soltanto l'ultra-destra La Cassazione Adacca la Renzia Si può fare Bufera Sul calendario Dell'esercito Per quanto riguarda Le regionali Salvini Lo abbiamo detto Cede la Sardegna A scontro Con Forza Italia Sulla Basilicata E poi l'economia Il governo Che fa cassa Anche con l'Eni In vendita Il 4% Caccia A 2 miliardi E poi la guerra In Medio Oriente Il pressing Degli Stati Uniti Su Meloni Ci aiuti Con i soldati In Libano A fermare Ezzbolla A centro-pagina Nel nome del bene L'invenzione di Tommaso Lo vedete Della foto 17 anni Per curare Il nonno Che si era malato Di Parkinson E poi nel nome del male Il pagnatiello Il lacrima In aula Che dice Ho distrutto tutto Lo ricordiamo Il 27 maggio Del 2023 Ha ammazzato Giulia Tramontano Incinta di 7 mesi Con ben 37 coltellate Andiamo ora su Avvenire Rotte di collisione Il titolo D'apertura Il Pakistan Risponde Con i missili Ai raid Di Teheran Lo Yemen Torna Nel mirino Degli alleati Cambiano Le vie Del gas Nel Mediterraneo Israele Si ritrova Avversario Degli Stati Uniti Quindi La guerra In Medio Oriente Che sta accendendo A livello globale I nuovi scontri Militari Ed economici E poi A centropagina La scuola Nuovo contratto Per la scuola Ma intanto È già scaduto L'adeguamento 2019-2021 Porterà aumenti Tra 90 e 200 euro A personale Docente E non Ancora Il saluto romano È reato Solo se Rivuole il fascismo Non è perseguibile Quindi In caso di Commemorazioni Lasciamo anche avvenire Ci spostiamo ora Su Il giornale Che apre ancora Sul saluto romano Scusate no Di taglio alto La notizia Il saluto fascista Non è reato Alle cerimonie Ma rimarrà La discrezionalità Del giudice Storica sentenza Quindi della Cassazione Da punire Solo se punta A ricostruire Il partito Del duce In alto L'incidente di Capodanno Pozzolo tace Davanti ai magistrati Ma un deputato Ha invece Il dovere Della verità E poi Ritrovate Dalle truppe israeliane L'ultimo orrore Dei terroristi Di Hamas Teste mozzate E messe In vendita E poi La questione Degli ecotepisti Stangata Sui vandali Chi imbratta paga Sanzioni immediate Fino a 60 mila euro Quindi chi rompe paga Il DDL sugli ecovandali E legge Con 138 voti a favore 92 contrari 10 astenuti La Camera Ha approvato In via definitiva La legge Che punisce La distruzione Il danneggiamento Il deturbamento E l'imbrattamento Di beni culturali E paesaggistici Ancora in Pagnatello A processo Le lacrime Di un assassino E poi Le privatizzazioni Prosegue il piano Il governo pronto A vendere Il 4% Dell'ENI Andiamo avanti Siamo ora Sul manifesto Il titolo Che campeggia Centropagina A questione morale Condannati Per il blocco Stradale Militanti Bolognesi Di ultima generazione Solo a 6 mesi E con la sospensione Della pena Perché hanno agito Per motivi Di ordine morale E sociale Ma la destra Approva una nuova legge Durissima Carcere e multe Contro i manifestanti E poi Il saluto romano E il reato A volte Scrive il manifesto L'attesa sentenza Della Cassazione A sezioni Riunite E poi Il ricatto di Morselli Sull'ex silva 14 giorni Per il commissario E poi i tormenti Dem Schlein Che gela i deputati E accelera Sul duello TV Ancora Medio Oriente Rai dovunque Da Gaza Al Pakistan Fino All'Iran Andiamo ora Su Libero Il verdetto Cancella Miley Teoremi Saluti romani Sconfitta OPD La Cassazione Ribadisce Quanto aveva già anticipato Il presidente del senato La russa Il braccio teso Alle commemorazioni Non è reato Le condanne Sono da annullare I giudici Santificano Intanto Gli ecofessi Bloccano le strade Per nobili Motivi E poi L'urlo di Milei Spiazza Davos Chi fa soldi Deve smettere Di vergognarsi Ancora le altre notizie Il nuovo programma I popolari europei Che fanno rotta a destra E poi Toninelli Non sa fare neanche la spesa Contestato dai consumatori Per i video Si parla quindi Di Disinformazione Lasciamo anche Libero E andiamo a concludere La nostra rassegna Come sempre Con le notizie Della Gazzetta dello Sport Fame da Inter Questo Il titolo Che campeggia Centropagina Alle 20 semifinale Con la Lazio Inzaghi E la sfida A Sarri Stelle Duelli Per arrivare A giocarsi Lunedì Il trofeo In alto Invece La Supercoppa Riad Fiorentina Battuta A 3 a 0 Da questo Napolissimo In finale Con Zerbin Entra E fa una doppietta Dopo il gol Di Simeone Icone Fuori Il rigore Del pari E poi Juve e Milan I colpi Per l'estate Il mercato Che verrà Signora A nozze Con Coop Mainers E invece Il diavolo Che punta Sesco Dell'Ipsia Bene La nostra rassegna Termina qui Vi ringrazio Come sempre Per averci seguito E vi rimando Al prossimo appuntamento In diretta Quello delle 13 e 30 Con il nostro Telegiornale Intanto a tutti voi L'augurio di una Buona giornata Il meteo E offerto da Casa di cura Villa dei Platani Malzoni Di Avellino Benvenuti al meteo Di TV Molise Vediamo nel dettaglio Che cosa ci aspetta Per la giornata di oggi Venerdì 19 gennaio Per la giornata odierna Si prevede tempo instabile Su buona parte del territorio Ad eccezione della costa Almeno fino in serata Nella notte infatti È previsto un cambio radicale Di circolazione Con temperature in calo E una recrudescenza Del maltempo Specie sui settori orientali Venti dai quadranti Sud occidentali Mare mosso Temperature Campo basso Minima 8 Massima 12 Sernia Minima 11 Massima 13 Termoli Minima 11 Massima 15 Venafro Minima 10 Massima 16 Vediamo adesso Che tempo farà Per la giornata di domani Sabato 20 gennaio Per la giornata di domani Si prevede forte maltempo Soprattutto in mattinata Con neve Mediamente Accuote collinari Con concrete possibilità di accumulo Su campo basso Migliorano tuttavia Le condizioni dal pomeriggio Con ampi rasserenamenti Specie sui settori occidentali Ma con ancora La possibilità Di deboli precipitazioni Nevose fino in pianura Su quelli orientali Venti forti dai quadranti Nord orientali Mare molto mosso Temperature Campo basso Minima meno 1 Massima 2 Isernia minima 0 Massima 5 Termoli minima 7 Massima 8 Venafro minima 3 Massima 7 Benvenuti all'oroscopo di oggi Venerdì 19 gennaio Ariete State vivendo una fase di incertezza Sarete più puntigliosi del solito Non dovete temere grandi scossoni A meno che non siate voi stessi A volerli procurare volontariamente Toro Dopo un periodo di piccole O grandi rivoluzioni personali Ora vi state assistando Cercate di trovare qualche diversivo Da dividere e vivere con il vostro amore Gemelli È un periodo migliore rispetto agli inizi del mese E le situazioni di contrasto Sono vissute con più consapevolezza Venere tra qualche giorno Non sarà più contraria Cancro L'emozione della trasgressione Finirà per prendervi la mano Dovete capire quanto sia importante un amore Per quanto riguarda il lavoro Aspettatevi qualche risposta Leone Segnali di possibile ripresa del dialogo Ci sono e vanno rispettati Ma andranno valutati anche con molta cura Se cercate un nuovo progetto lavorativo Questa settimana può darvi la giusta intuizione Vergine Entro la fine del mese Può arrivare una conferma Un'amicizia diventa qualcosa di più Non escludete la possibilità di un nuovo amore Cambiamenti in corso sul lavoro Bilancia Continua il transito di Venere favorevole Eventuali situazioni critiche e polemiche Andrebbero chiarite entro gli inizi di febbraio Scorpione State cercando di ritrovare un punto di riferimento Qualche certezza in più Se state aspettando un miglioramento sul lavoro Lo riceverete entro fine febbraio Sagittario State vivendo una settimana con Venere nel segno Un evento da sfruttare Visto che porta passionalità Per quanto riguarda il lavoro Le passate esperienze portano successo E il giusto background per i nuovi lavori Capricorno Poche settimane ancora E Venere sarà nel segno Non bisogna tenere in disparte Eventuali relazioni che nascono in questi giorni Per quanto riguarda il lavoro Entro fine gennaio Sarà possibile ricevere un premio Acquario Dopo le baruffe del mese scorso Per molte coppie È l'ora dell'armistizio Una carica di fascino notevole Aiuta anche i single Questo è il periodo giusto Per cercare di programmare gli eventi di lavoro Pesci State vivendo un periodo di grandi certezze Per i vostri sentimenti Anche nella vita lavorativa Potranno arrivare conferme Questa rassegna stampa È offerta da ICM Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli Radio Surgery Center di Agropoli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti